A meno di un anno dalla sua scomparsa, un premio per onorare la sua memoria e il suo impegno intellettuale nell'ambito sociale e in quello culturale. Annino Di Giacinto era sociologo ma soprattutto grande talento della danza, conosciutissimo a Teramo per le sue molteplici attività. L'Associazione Culturale Porta Romana Bella ha così promosso l'omonimo premio per persone che hanno contribuito alla crescita di Teramo. Venerdì 9 ottobre presso la Cantina Porta Romana, a partire dalle 19, l'inizio della serata che porterà alla premiazione, fra gli altri, del Presidente della Regione Gianni Chiodi per la politica, dell'Onorevole Antonio Tancredi per la cultura, del Presidente della Teramo Basket Carlo Antonetti per lo sport, intermezzi musicali con Luca D'Alberto e Lorenzo Matarazzo degli X-Wave. Questo premio è un premio chiaramente locale ma ambisce a non essere un premio localistico. Abbiamo cercato di puntare l'obiettivo sul legame con la terra manità, intesa però in un'ottica se vogliamo campanilista ma non provincialista. Un discorso di sottili distinzioni ma ciascuno degli ambiti nei quali a Nino Igiocinto è espresso in varia misura e a vario titolo il proprio impegno è diventata una sezione di questo premio.